voi correte per dimagrire occorrono tre cose una buona alimentazione una sana attività fisica e il mindset e la gestione delle emozioni per riuscire a fare quelle due cose prima perché se non siete stabili mentalmente se non siete organizzati e non avete rumore ballerino non riuscite né a seguire un protocollo alimentare tantomeno essere costanti nell'attività fisica oggi vi voglio parlare della corsa perché la corsa è sicuramente una cosa che può aiutarvi a farvi dimagrire ma molti non riescono neanche a iniziare perché pensano di non essere in grado ebbene ho portato tantissime persone tantissime ragazze che non hanno mai corso a fare otto chilometri in ora in questo mese ci sarà una ragazza laura che riuscirà a coronare questo sogno era un suo sogno di fare otto chilometri in un'ora lo posterò poi sui social quindi perché non iniziare neanche te a fare un chilometro mezzo chilometro c'è una programmazione speciale e se vuoi possiamo farlo insieme ciao io sono alessandro cenci che life coach e personal trainer e se vuoi iniziare a fare i tuoi primi cinque o otto o dieci chilometri di corsa contattami e studiare insieme la strategia perfetta per te se ti è piaciuto questo video metti like